Per il ciclo très chic Anton, devi smettere di vederla Consuetudini Commissario Sonnier Da rispettare Non ti mischiare Cinque milioni di euro Per ognuno di voi Principi I suoi metodi sono sempre gli stessi In cui credere Non faccia di malachiano una questione personale Quella ragazza è necessario che sparisca Regole da infrangere Io me ne tiro fuori, ti lascio coi tuoi fantasmi La legge del crimine Mercoledì alle 21 con Iris